Musica La scorsa estate sono stata a Brisa e osservando la torre mi sono chiesti a come mai potessi stare in piedi nonostante la sott'inversione. Questo è un problema di pari genitori che possiamo verificare con l'esperimento. Facciamo dire che è molto così la torre di Pisa. Noi pensiamo che il pari genitori si prende a questo punto e facciamo qualche rifiuto a chiombo. E mano a mano che noi finiamo la torre vediamo come si comporta. Adesso sto stimolando l'esione della torre di Pisa. Infatti quando il pesetto opera la proiezione del pari genitori rimarrà all'interno della base di appoggio poi la torre non cadrà. Invece quando supererà il punto limite questo cadrà. Grazie. Grazie.